Il 24 gennaio in piazza Santissimi Apostoli dalle 5 alle 8 faremo la notte dell'onestà. Qua si sta provando in ogni modo a far dimenticare lo scandalo di Mafia Capitale. Renzi ci prova con la storia delle Olimpiadi, con qualcos'altro, perché la distrazione di massa è il miglior alleato del sistema. Ecco, per non dimenticare ci vediamo in piazza, ripeto, il 24 gennaio, piazza Santissimi Apostoli a Roma, per porre attenzione al tema di Mafia Capitale e parlare anche di soluzioni. Con noi ci sarà Andrea Sartoretti. Ciao. Ciao. Sì, ci sarò, ci saranno anche altri amici che vogliono fare questa cosa strana, che è sostenere la legalità e ricorderemo che cosa porta alla corruzione. Insomma, io vorrei sostenere questa città, questo paese, quindi la legalità che è un, come si dice, è l'anima fondamentale da cui partire. Ci vediamo il 24 e diffondete e passate parola. A presto. Grazie. 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 Grazie.